Mercoledì scorso nella Basilica di San Martino Maggiore è stata eseguita in forma integrale La Passione, secondo Giovanni, di Johann Sebastian Bach. L'opera che vide la luce nel 1724 e fu eseguita per la prima volta il venerdì santo all'Ipsia è stata allestita dal gruppo vocale Schultz, accompagnato dall'ensemble Harmonicus Concentus. E sempre a proposito di Bach, si tiene proprio questa sera una prima parte dei celebri concerti brandeburghesi presso la Basilica di San Francesco. Lunedì 30 maggio nella stessa Basilica verranno eseguiti il sesto, il quarto e il quinto nell'ambito della rassegna musica in Basilica. I brandeburghesi sono presentati dal Conservatorio di Bologna con la direzione del maestro Stefano Chiarozzi.